Inizio a fare un male stremo, ma anche, ad esempio, una cosa, insomma, che dice adesso che i patrizi danno i loro figli e danno i soldi allo Stato, così io ci guadagno. Invece però sono più onesto, molto morale, che fare queste imposte in diretta, che succevo, così anche i poveri no, non ce ne vanno già, le faccio così pure, ma molto radicale, di dentro l'opera, più male, più male, ma onesto, più male, perché è un grosso di così male, benissimo, di trasferarsi, ma ci sanno tutti gli altri personaggi. Grazie a tutti.